calcio di punizione dal limite a nostro favore rete, 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 rete di Enrico, Enrico direttamente sul calcio di punizione Enrico ha fatto la sua doppietta 4 a 1 fino a questo momento doppietta di Enrico, adesso mister Giovanni chiama il cambio si prepara l'esordio ecco l'esordio c'è di Camillo Lorenzo non è il di Camillo Domenico dell'altra settimana proveniente dagli esordienti esce Alessandro Ramonti entrato di Camillo Lorenzo numero 16 fa il suo esordio in serie superiore